il sentiero del palazzo. Qual è l'origine del suo nome? Partiamo dicendo che questo sentiero costeggia un antico e imponente casolare che rappresentava il centro rurale della contrada. In principio questa struttura fu adivita a magazzino per la raccolta del grano, coltivato dai coloni dei Marchesi Sgariglia. Nel secolo scorso questo casolare divenne la dimora per ben cinque numerose famiglie, da qui l'origine del nome, il palazzo. Stiamo parlando di una comunità agricola dedita al lavoro nei campi, tra aiuto reciproco e momenti di socialità. Lungo il percorso incontrerai la prateria salata, un delicato ecosistema dove cresce la vegetazione mediterranea. Come il raro astro marino con la sua affascinante corolla rosa o la salicornia, che in autunno assume una colorazione rossastra, trasformando la prateria in un sorprendente tappeto rosso. Un vero spettacolo!